A San Donati, Piave, Cremona, Latina, Piacenza, Catania, Avezzano e Vigelano. Venite a trovarci, realizzeremo del vivo i vostri divani. Oltre un'esofa, artigiani della qualità. Ehi, un bel vento mamma. Oh, eccoci, ho tre anni, non si abbia su voi. Mamma. Un bel vento mamma. Un bel vento mamma. Un bel vento mamma. Ma hai scattuto ciò? Grazie a tutti.